Ciao a tutti ragazzi da Pupi. Allora oggi prepariamo un ottimo pomodoro al riso. Gli ingredienti che abbiamo sono pepe, sale, pomodori, basilico, prezzemolo, aglio e le patate. Quindi che facciamo? Ci andiamo a cominciare a prendere il cappello al pomodoro, che non buttiamo perché ci serve dopo i ricordi. E ci andiamo a togliere la polpa del pomodoro e la mettiamo. Lo facciamo per tutti i pomodori. Adesso vi faccio vedere uno e poi prendiamo qui la parte più dura. Siamo attenti a non romperlo. E poi con un cucchiaino ce lo andiamo a scavare piano piano. Questo lavoro ce lo facciamo per tutti i pomodori. E quindi ci rivediamo tra poco. Ora eccoci qua. Una volta aperti tutti i pomodori e scavati, con tutta la polpa che abbiamo questo qua, abbiamo aggiunto tre cucchiai di riso per me la pomodoro, poi vi regolate. Mescoliamo e poi cominciamo a insaporire l'olio, sale, bere a chi piace. Poi ci abbiamo uno spicchio d'olio. E andiamo a tritare tutto dentro insieme, quindi il basilico, il semolo e l'olio che insaporisce. E poi con questo intruglio rusco ci andiamo a riempire i pomodori. Semplice no? Andiamo a vedere se c'è l'anima dentro l'aglio. No, questo è un buon aglio. La seconda del gusto che mi piace, c'è un po' e mezzo, sale troppo di aglio. Basilico della pettina, prezzemolo comprato. E andiamo a dare tutto dentro. E ci dà un profumo d'olio pazzesco. Ok, fatto questo mescoliamo tutto e andiamo a riempire i nostri pomodori. Qua ci andiamo a capare le patate. Ok? Io mi finisco questo lavoretto. Ci vediamo tra poco. Ciao da pupi! Eccoci qua! Allora! È pronto! Quindi abbiamo fatto, abbiamo riempito i pomodori. Un po' di un tubo rosquissio. Tagliato le patate. Abbiamo salate. L'abbiamo messe tutte dentro. Perché abbiamo fatto? L'abbiamo coperto con l'acqua. Perché poi finisera a sorbire il riso. Dopodiché abbiamo aggiunto l'olio. Che il sapulisce in forno. Un'ora e un quarto, un'ora e mezza. Ventilato. Ci vediamo. Un'ora e mezza. Così ce l'assaggiamo. Ciao! Eccoci passati dopo un'ora e mezza. È pronto questo benedetto compagno al riso. Che è ancora caldo. Questo lo affettiamo e lo facciamo freddare. E poi ho mangiato sempre la patatea. Tanto contiamo la patata, assaggiamo. Buona! C'è sempre la patata. Buona! La burrilla. E andiamo a sentire il riso. E sopra forma questa crosticina. E sotto rimane morbida. Tutta l'acqua che abbiamo messo si è assorbita al riso. Che si è colpa alla perfiazione. Sentite che il sapori? E' eccezionale. Prezzemolo, basilico, aglio, il pepe. Buono, buono, buono. Veramente buono. Ci vuole un po' di tempo per prepararlo. Meno tanto per prepararlo. Per cuocerlo. Dattanto lo cuoce in forma. E quindi poco un'ora e mezza lo deve fare altre cose. Provandola è buonissimo. E speretevi al canale. Un saluto da voi. Vi avrò una fatta caldissima. Ciao! Grazie.